il tuo albero di natale non sta in piedi ciao a tutti sono harry goldfinger molti di voi mi avranno già visto nei sexy christmas movie babbo natale sai di zenzero e il piccolo grande aiutante di babbo natale beh dopo molte ore sul set anche ad uno stallone come me serve un piccolo aiuto ed è per questo che voglio consigliarvi toro enojado prendine solo un po per preparare il tuo albero a fare festa un po di più per trasformarlo in una gigantesca sequoia per le feste di natale toro enojado è la mia scelta